Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, Occhio e Giornali, il commento alla stampa del giorno di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, in diretta 7 del mattino sul canale 17 di Fanotv c'è appunto Occhio e Giornali, che comincia come sempre con il Santo del Giorno. Oggi la Chiesa ricorda due santi martiri, Marcellino, sacerdote, Pietro, esorcista, tutti e due martirizzati, hanno scavato persino la loro fossa, il loro sepolcro con le proprie mani. Siamo nell'età, siamo un po' indietro nel tempo, all'età dell'imperatore Diocleziano e dunque delle persecuzioni. Il tempo, andiamo a vedere subito il tempo. Giornate più o meno tutte uguali, come vedete dal sito della Protezione Civile delle Marche, i tre giorni, mercoledì, giovedì e venerdì, a parte qualche pioggia oggi in montagna sulla parte meridionale, per il resto, vedete, domani e dopodomani la situazione è di tempo soleggiato, soprattutto sulla costa. I titoli dei giornali, le prime pagine dei quotidiani, Carlino Di Pesero e Corriere Adriatico. La cronaca in primo piano con questa tragedia che si è consumata a Colli al Metauro. Bimbo muore in culla a sei mesi. Il padre si è accorto che non respirava e ha chiamato i soccorsi, ma è stato tutto inutile. È stata disposta l'autopsia. A centropagina c'è l'accordo con Petrovic, la VL stringe con il grande ex dopo per il dopo Repesia. Mentre il bollettino dei contagi, una vittima e 14 contagi, giù i ricoveri, dunque continua a scendere il numero dei pazienti assistiti negli ospedali delle Marche. Il ritorno lento alla normalità, si mangia dentro, nei ristoranti torna il gusto appunto della normalità, poi la lotta al Covid, maturandi pronti al vaccino per fare l'esame e poi viaggiare. Festa della Repubblica, ecco i cavalieri della lotta al Covid, e poi sventrano la cassaforte, rubano tutto, è successo in un quartiere di Pesero, rapinano un coetaneo, lui patteggia il baby bull, patteggia, gli aveva sfilato il portafogli con 260 euro. Vax dei ai maturandi piace, diversi studenti delle quinte hanno già detto che si presenteranno oggi negli hub vaccinali per la prima dose, l'area vasta 1 ha previsto dalle 50 alle 300 somministrazioni in più, verificata tutta l'organizzazione. Centropagina, le bandiere a colori, acchiappaturisti, mare, spiagge e borghi al top. Poi le ruspe, che è successo? Ecco qua, le ruspe in spiaggia, gli ombrelloni guadagnano una fila, siamo sul lungomare di Pesero, e poi invece al lungomare di Fano servizio di salvataggio negli arenilli liberi e corsa contro il tempo. Ma c'è anche un'altra tragedia che si è consumata a Urbino, un neonato che muore dopo il parto, sono 9 i sanitari indagati, shock all'ospedale di Urbino, aperta un'inchiesta, un neonato, 50 minuti di vita e poi purtroppo è morto. Vedremo tutto questo nel corso di questa rassegna, che comincia con la pagina del resto del Carlino di Pesero. Ieri sui social si è subito diffusa la notizia, nelle varie pagine, soprattutto dedicate ai vari paesi, la notizia di questo dramma ha scosso questa piccola comunità di Colli al Metauro. Il titolo, muore sei mesi sotto gli occhi dei genitori, la tragedia si è consumata a Villanova, siamo in una frazione di Colli al Metauro, Villanova di Montemaggiore. Il piccolo stava dormendo, è stata disposta all'autopsia per capire le cause. L'articolo di Marco Del Rico, muore a sei mesi sotto gli occhi dei genitori, forse soffocato da un rigurgito oppure vittima della sindrome della morte improvvisa del lattante. La procura della Repubblica di Pesero ha disposto all'autopsia. La tragedia si è verificata nella tarda serata di domenica, intorno alle 23 nella frazione di Villanova di Colli al Metauro, in una casetta a due piani. Il bambino era il secondo genito di una giovane coppia del posto. Il padre si è accorto che non respirava più e ha chiamato i soccorsi, ma tutto è stato inutile. E come dicevo, la notizia del dramma ha scosso la piccola comunità, dove la famiglia molto conosciuta e stimata, sui social si sono susseguiti tanti messaggi di cordoglio e di vicinanza. Il decesso potrebbe essere stato provocato da un rigurgito. Il Corriere Adriatico invece racconta di un'altra tragedia. Questa volta sempre purtroppo protagonista un neonato, un bambino di pochi minuti, perché 50 minuti ha vissuto su questa terra. Sotto inchiesta 9 sanitari. L'articolo è di Lorenzo Furlani e Eugenio Gulini. 50 minuti ha vissuto il neonato partorito intorno alle 17 di giovedì scorso, nel reparto di ostetricio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino. Era il primo figlio di una giovane coppia di Urbania, agricoltore trentenne lui, barista di 29 anni lei. È stata aperta un'indagine in seguito alla segnalazione della famiglia per accertare cause ed eventuali responsabilità della morte improvvisa. Avvisi sono stati inviati a tutto il personale dell'ospedale coinvolto quel pomeriggio nelle attività prestate a madre e piccolo. 9 sono i sanitari indagati. Le poche certezze che per ora ci sono è che il parto è stato naturale ed è avvenuto al termine dei 9 mesi di gravidanza. Ancora cronaca, un ragazzino vessato e derubato sull'autobus, un episodio che raccontammo anche noi. L'aggressore ha patteggiato due anni e otto mesi, il 15enne era stato anche picchiato alla fermata. È un evento, un fatto che è successo, un episodio di cronaca, che è successo nel gennaio del 2020. Prima le sopraffazioni, le vessazioni, poi il coraggio e la determinazione di un minorenne che ha denunciato il suo aguzzino. Ora parliamo di uno studente di 15 anni, il vessato, la vittima di questo bullo, e il bullo che lo aveva preso di mira, un 19enne pesarese. Sfottò insulti, minacce, fino a quando un giorno non gli ha preso il portafogli con dentro 260 euro, che erano i soldi che il ragazzino teneva nel portafogli e che erano i soldi ricevuti nelle festività natalizie dai parenti. Ora però, la cosa bella di questo fatto è che questo ragazzino di 15 anni ha avuto il coraggio, la forza, la determinazione di denunciare il suo aguzzino, il suo bullo, il bullo che lo ha vessato per molto tempo. Quindi questa è la notizia e questa è la speranza che possa essere così anche per tanti altri ragazzini che invece al contrario stanno zitti, soffrono, non dicono niente e magari si chiudono anche in se stessi. Mentre a Lucrezia, qui siamo sulla pagina del resto del Carlino di nuovo, rapina per una saponetta da 2 euro, ora il supermarket ne rivole 15 mila. A giudizio una donna di 30 anni di Lucrezia che si difende, dice non sono stata io, avete sbagliato persona, ma c'è stata un'aggressione verbale con delle frasi tipo infame, quattro occhi, te la faccio pagare. Sono queste le minacce che l'imputata avrebbe rivolto alla vigilante. Una vicenda che risale a novembre del 2019. Il giornale ricorda oggi a Fano, oggi è mercoledì, una giornata di festa, ma è anche una giornata di mercato settimanale. Dunque in piazza 20 Settembre ci sono sia il mercato che il teatro aperto, lo annuncia l'assessore delle attività economiche Etienne Lucarelli del Comune di Fano, ovviamente. Poi, ancora cronaca dalla pagina 17 del Corriere Adriatico, Valle Foglia, un pauroso schianto con la moto, ferito soccorso dall'ambulanza, dall'eliambulanza, il violento urto mentre un 74enne in auto si immetteva sulla Monte Labattese. Erano circa le 7.30 di ieri quando si è verificato questo pauroso incidente stradale che ha coinvolto un motociclista ed un automobilista. A Pesaro, invece, dal Carlino tagliano cassaforte, rubati gioielli di famiglia. Un furto ieri mattina nel quartiere di Vismara poco dopo le 8.30 quando i proprietari di casa sono usciti per andare a lavorare. Hanno chiuso a chiave il portone, finestre e quant'altro e sono partiti tutti e due per le rispettive destinazioni, scrive Davide Eusebi. Qualcuno, evidentemente, ha visto tutto quanto, anche perché erano probabilmente tenuti sott'occhio e quando loro sono usciti di casa i ladri sono entrati. Nessun testimone, telecamere solo nella statale, è iniziata la stagione dei furti. E la stagione dei furti, quindi bollino bianco, zona bianca anche per i ladri che hanno molto arretrato, quindi occhio. vola dallo scooter e colpisce un palo con il corpo grave. Siamo ad Ostravetere, cade dallo scooter, finisce contro un palo grave un 47enne di Ostravetere. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 17 lungo la statale 360 all'altezza dell'intersezione con via Santa Maria apparve in località Pianello di Ostra. L'uomo stava viaggiando in sela allo scooter quando ha appunto finito contro questo palo. Finisce nel fosso invece l'auto si incendia ad Arcevia, pompieri al lavoro. La pagina della pandemia solo 34, soltanto 34 nuovi positivi, quindi è un buon numero. Era accaduto ad ottobre, la zona bianca dunque più vicina, se ne parla dal 21 comunque di giugno. Nelle Marche l'incidenza è scesa a 42,4 casi su 100 mila abitanti, il limite è 50, quindi siamo ben al di sotto, ma devono esserci tre settimane consecutive con questi dati sotto il 50, altrimenti poi non scatta la zona bianca, ecco perché dal 21 di giugno. Da oggi a domenica c'è anche il Vax Days per chi deve affrontare la maturità. L'assessore regionale Saltamartini invita i ragazzi a vaccinarsi perché dice è un atto di responsabilità. Presto le dosi anche nelle aziende e anche nelle imprese turistiche con lo slot dai 16 ai 39 anni, cioè la possibilità per chi ha dai 16 ai 39 anni di vaccinarsi. Allora, oggi Festa della Repubblica, tante le nomine a Cavalieri, sono tantissimi, sono tutti Cavalieri qua, ben 45 camici bianchi o comunque lavoratori a vario titolo della sanità, insegnati del titolo di Cavaliere, Cavaliere ufficiale, Comandatore o Grande Ufficiale, su una lista complessiva di 50 persone, 54 anzi, che oggi alle 10.30, questa mattina, si daranno appuntamento al Teatro Rossini di Pesaro per ricevere le onorificenze dalle mani del prefetto Tommaso Ricciardi. Con loro ci saranno anche gli eredi di 5 cittadini insegnati delle medaglie d'onore alla memoria. Qui sono alcune delle persone, anche volti e nomi conosciuti, perché comunque nel corso di questa pandemia un anno e mezzo sono nomi che vi abbiamo presentato, fatto conoscere anche attraverso i nostri telegiornali. Nell'elenco degli insigniti dell'onorificenza di Cavaliere ufficiale figurano per esempio Maria Capalbo di Fano, direttore generale di Marche Nord, poi vedete c'è Umberto Gnudi, primario, Michele Tempesta, anche lui primario, Margherita Lambertini, medico, Augusto Liverani, medico dell'Asur, Romeo Magnoni, direttore dell'area vasta, poi andando sotto invece abbiamo Luciano Ricciardi, che è il comandante provinciale dei Carabinieri, lo vedete qua, poi sotto Francesca Faedi, astrofisica, e a ricevere questa onorificenza anche Antonio Angeloni, che è commendatore, e Salvatore Giordano, grande ufficiale. Scogliere e non solo, al mare tirare di Burrasca, confartigianato contro il comune di Fano per l'incompiuta Sassonia, sapete che a Sassonia manca un pezzettino di scogliera, e quindi comunque qualche problemino lo provocherà, insomma, poi si parla di parcheggi blu, di spiagge libere, Fratelli d'Italia dice, manca la volontà di puntare sul turismo. Senza più buche, ma neanche auto, Piazza Marcolini, sempre a Fano, cambia, l'amministrazione ha intenzione di approvare il progetto preliminare entro l'estate. Ecco cosa prevede l'intervento da mezzo milione di euro. Il Conte Lupoveracci dice l'asfalto non esiste più e le piante non le curavano da vent'anni. In effetti, per chi è di Fano e conosce questa zona, siamo praticamente vicino a San Paterniano, la Basilica, questa è davanti all'ex istituto d'arte, insomma, è un piazzale davvero ridotto, malissimo. E però adesso arriverà questo intervento da 500 mila euro che servirà per ridare vita e lustro a questo parcheggio. Intanto a Pesaro, dal Corriere Adriatico, le ruspe in spiaggia, così gli ombrelloni guadagnano una fila, ripascimenti in corso nella zona di Ponente, i bagnini sono soddisfatti, i gestori di Gastone e Marta dicono abbiamo perso circa 90 posti, ora sono 270. E poi la ginnastica, sono numeri importanti, tre giorni di evento, 138 nazioni partecipanti, la Coppa del Mondo è, 180 ginnaste in gara, 355 componenti delle delegazioni internazionali che hanno generato 3680 presenze alberghiere durante tutta la manifestazione che si è svolta a Pesaro. Da Senigallia addio al missionario dei due mondi, Don Alex, stroncato dal virus in India, ha realizzato strutture per togliere i bambini dalla strada e offrire un futuro attraverso l'istruzione. Questa è la notizia che troverete sulla pagina del Corriere di Senigallia, schianto contro un palo della luce, anche qui vedete grave un 47enne che ieri pomeriggio ha perso il controllo del ciclomotore sull'Arceviese. Siamo alla pagina di Sport, Offidani assicura il Fano e i tifosi, il resto anche in Serie D, anche se il Presidente dice abbiamo fatto partire l'iter di iscrizione, ma speriamo tutti nella riammissione in Serie C, mentre Bizzocchi, dopo la malattia, sprona la vis, torno da dirigente. L'ultima pagina, pagina 31, per il Fano ci sono due strade, la società verrà iscritta alla Serie D, ma il patrono, Offidani, pensa sempre alla Lega Pro, il Club Granata punterebbe più alla riammissione in C che al ripescaggio, ma è tutto da vedere. Il ritorno tra i professionisti resta condizionato alla mancata iscrizione di altre società e alla omologazione dello Stadio Mancini, che però, insomma, da quello che ho letto continuerà, proseguirà, c'è la volontà per lo meno dell'amministrazione di omologare questo stadio, lo Stadio Mancini, per consentire quindi al Fano di essere in regola. Noi ci fermiamo qui, questa sera, dopo il telegiornale delle 20 e 30, c'è uno speciale dedicato all'inaugurazione del rifugio Corsini. Andiamo in alta quota, siamo sul Monte Nerone. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.